Un saluto a tutti gli amici di Android World.it, siamo allo stand Oppo, non per presentarvi un nuovo smartphone dell'azienda, ma per presentarvi una nuova tecnologia all'interno di un nuovo smartphone, che però è soltanto un prototipo basato su Nougat. Nota di colore, a me personalmente questo prototipo piace. La nuova tecnologia riguarda lo zoom ottico, zoom ottico 5x all'interno di questo smartphone. Ma come è possibile che ci sia uno zoom ottico all'interno di uno smartphone così sottile? Lo zoom ottico presuppone che la lente si muova fisicamente verso l'esterno, in modo da avere vari livelli di zoom. Oppo, secondo me, ha fatto una di quelle che potremmo davvero definire un'innovazione, una delle poche di quelle che ormai vediamo all'interno della fiera, innovazione che prevede che la lente, invece di scorrere verso l'esterno, scorra lateralmente all'interno. E poi con un sistema di specchi stile periscopio, questo sensore viene sostanzialmente utilizzato frontalmente. Allora, facciamo una cosa, andiamo a testarlo. Qui i telefoni sono agganciati, ma posso utilizzarlo tranquillamente anche sganciato. E notiamo una cosa veramente sorprendente. La lente va a muoversi e quello che abbiamo è un 5x veramente veramente stupefacente. un 5x veramente stupefacente, se riusciamo a mettere a fuoco per bene. Ecco qua, vi faccio rivedere. 1x, 2x, 5x, veramente notevole. E come vedete l'immagine non vibra molto. E questo è possibile grazie alla nuova stabilizzazione ottica che Oppo ha inserito all'interno di queste nuove fotocamere, che permette di avere una foto non mossa e perfettamente a fuoco anche con la lente impostata sul 5x. Qui ci sono un sacco di foto scattate anche da altre persone ed effettivamente è una tecnologia davvero stupefacente. Guardate questi due personaggi Lego. Voglio rifare la stessa identica foto in diretta per dimostrarvi che è tutto vero. Adesso io faccio questo 2x e questo 5x. ovviamente con un esagerato effetto bokeh, quindi veramente molto molto ben fatto. E quando ve la mostro ecco qua il risultato. È una foto che ha tutto il dettaglio della risoluzione massima della lente, guardate qua, con appunto uno zoom 5x ottico realizzato sostanzialmente per un altro verso, proprio come un periscopio come lo descrive Oppo. Veramente notevole, complimenti a Oppo. Per questa prima demo dello zoom 5x di Oppo al Mobile World Congress 2017 è tutto. Un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it